Carissimi, bentornati sul mio canale, finalmente dopo non qualche tribolazione sono riuscito a riaccendere il mio ICOM ICR71E, adesso lo sto testando in gamma 40 metri, sembra funzionare bene, devo ancora sistemare la lampadina qui all'interno delle smiter, eravamo rimasti al problema che poteva dare la RAM di queste radio ed effettivamente non dipendeva dalla radio, dalla RAM scusate, ma dipendeva da questo integrato regolatore che praticamente era andato. Un rapido riscontro delle tensioni in questa zona e il fatto che questo è applicato su una basetta di dissipazione mi ha fatto supporre che potesse essere lui a non funzionare ed infatti era proprio lui. Intanto avevo provveduto all'acquisto della nuova RAM board di IC2RND Roberto che prontamente mi è arrivata ed eccola qui, come potete vedere è installata, però il problema era dovuto a questo 7805 che regola un po' questa tensione da 5V su parte di questa scheda. Tutto è bene quel che finisce bene recita un vecchio detto